Nessuno vuole ammazzare l'industria, però ovviamente la nostra priorità è quella di salvaguardare il bene più prezioso che hanno i cittadini, cioè la salute. Il Presidente ha dimostrato molta sensibilità all'argomento e ha promesso di interessarsi alla sua soluzione sia dal punto di vista politico per quanto concerne la visione dell'accordo di programma, sia dal punto di vista tecnico per quel che riguarda la possibile revisione dell'AIA attraverso l'estensione di indagini sia di tipo tecnico che di tipo sanitario. Speriamo che il nostro ruolo sia quello che non è stato con la giunta precedente, di avere un'interlocuzione costante a supporto e di confronto con il Presidente della Regione in questa nostra battaglia per la chiusura dell'area caldo. Facce soddisfatte stamagna l'uscita dal primo incontro sulla ferriera fra le associazioni ambientaliste e la nuova giunta regionale, una giunta che rispetto all'amministrazione precedente è decisamente più vicina alle istanze dei servolani. L'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro riassume così le posizioni dell'esecutivo Fedriga. Una riconversione di una industria impattante come la ferriera verso un qualcosa di diverso, non senza dimenticare anche che abbiamo centinaia di lavoratori che dovranno essere ricollocati. È un progetto intorno al quale la Regione spera si crei interesse anche da parte della proprietà. E' auspico che venga condiviso in maniera collaborativa con la proprietà affinché si possa fare in tempi brevi e in tempi certi. C'è poi un altro dato. A fianco della Regione potrebbe esserci un alleato prezioso come emerso ieri nel corso di Sveglia Trieste. Quell'importante realtà triestina che è il porto di Trieste. Comunque l'intenzione del Presidente è coinvolgere l'autorità portuale per un percorso di revisione dell'accordo di programma, un nuovo accordo di programma o la revisione dell'AIA. E al tempo stesso vuole coinvolgere l'assessorato alla sanità e il Governo nazionale perché ritiene che questo problema sia un problema da portare sui tavoli nazionali. Infine la promessa di rivedersi che par di capire le associazioni utilizzeranno anche per monitorare come la Regione si muoverà. Il Presidente ci ha promesso di vedere periodicamente i cittadini, confrontarsi con le associazioni che si occupano dell'argomento e quindi percorrere insieme una strada che porti finalmente alla chiusura dell'area a caldo e alla ristrutturazione di quell'area in attività produttive diverse.